Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come rendere più brillante lo schermo del monitor sul pc ovviamente se tu vai a scrivere DX, DIAC per capire che tipo di scheda video hai nel tuo pc ovviamente se hai un pc fisso puoi anche vederla anche attraverso il vetro capisci subito che è una scheda grafico AMD o Nvidia se hai invece un portatile e non sai che scheda video hai dentro puoi sempre vedere qua sopra quindi una di visualizzazione e qua troverai la tua scheda video a me è Nvidia quindi in questo caso per rendere più brillante lo schermo funziona anche sui giochi quindi in questo caso se tu vai nel link che ti ho lasciato in descrizione scrivi e lo scarichi da qua ok e da qui poi andiamo ad avviarlo vai su regola impostazioni colore sta sullo schermo regola impostazioni colore e da qui puoi aumentare il contrasto e la brillantezza digitale sul monitor ok ovviamente non si vede nella registrazione quindi in questo caso ti faccio vedere meglio attraverso una webcam per farti capire come funziona quindi come puoi vedere la brillantezza digitale ci permette di fare questo è diventato grigio lo schermo ok più 100% rende più brillante l'immagine sullo schermo e poi puoi anche aumentare il contrasto tipo lo metti su 80 luminosità lo metti su 75 e fai applica ok quindi in questo caso se questo video ti è stato utilissimo ovviamente per quelli che hanno la scheda grafica AMT dovete scaricarvi il software AMD Radeon e sempre su grafica impostazioni colore e da lì in poi potete vedere se c'è la brillantezza colore luminosità e contrasto e questo era più un video per Nvidia però per AMD basta fare tutto su AMD Radeon il panel di controllo per le schede grafica AMD quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao 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 ciao